Sarà la Diocesi di Arezzo Cortona a Sansepolcro ad ospitare il Festival della Comunicazione in programma dal 1 all'8 maggio. Una settimana intensa di eventi disseminati in varie località della Diocesi, con 52 appuntamenti che ruoteranno attorno al tema proposto da Papa Francesco, Comunicazione e Misericordia. È molto bello che si comincia con un'attenzione ai bambini. Vengono personaggi di estrema qualità nazionale, cioè il direttore nazionale dell'Antonianum di Bologna, quello dello Zecchino d'Oro che forse quando eravate bambini avete seguito anche lui. Poi la Mussi Borlini che è la storica direttrice della TV dei ragazzi della RAI e poi c'è un aretino che insegna a Brera ed è uno dei più grandi disegnatori di fumetti nel mondo. Ma dopo abbiamo trovato una retina di 12 anni, Maria Paola Sanna, che avendo sentito raccontare da me un pezzetto della storia di San Donato, si è messa a disegnare, è bravissima e ha fatto 17 tavole incantate. Che quella sera lì, il 30 sera, dopo la tavola rotonda, si inaugura la mostra di una bambina. E mi piace questo. E il punto finale di questa cosa è che addirittura Enzo Bianchi, il priore di Bose, viene apposta nella cattedrale di Arezzo sabato 7 di maggio a parlare agli aretini di misericordia. Poi due eventi liturgici. Si riapre San Francesco al culto solenne e addirittura a Santa Sede viene l'Arcivescovo Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia il primo maggio a fare una messa in San Francesco alle ore 10 e andrà in diretta televisiva nazionale. E la 8 giorni dopo, l'8 di maggio, sarò io al calcinaio di Cortona di Remissa e lì sarà la RAI che la rimanda in collegamento nazionale.